Tradita dalla sua ossessione per lo shopping di lusso, è finita di nuovo in manette la 31enne soprannominata Lady Shopping, già arrestata a inizio agosto a Roma per aver rubato una borsa Gucci da 29.000 euro. Questa volta i carabinieri l'hanno riconosciuta mentre si aggirava tra le vie del lusso nel centro storico e quando hanno notato che con altri tre complici, due donne e un ragazzo, tutti cileni come lei e con precedenti, che entravano in un negozio Louis Vuitton di Via del Tritone per uscire con tre buste vistose, sono intervenuti. I quattro avevano pagato gli acquisti da circa 8.000 euro con due carte di credito rubate e ancora bloccate, intestate a una statunitense vittima di borseggio poche ore prima in un ristorante. La merce è stata recuperata e restituita, le carte di credito sequestrate. I quattro sono stati trattenuti in attesa dell'udienza di convalida, dovranno rispondere dei reati di ricettazione in debito utilizzo di carte di credito continuato in concorso.